Quando c'erano i scioperi, metà li facevano, metà no. Io non li ho mai fatti, però finito lo sciopero la mia macchina non andava più, perché quello là che li faceva mi rompeva la corda. Mi dicevano non hai fatto lo sciopero ma stavolta te l'ho fatta. Noi combittrici non è che non volevamo fare il sciopero, però quando andavamo giù poi, sa come, invece loro uscivano, invece noi le suole mi alzavano di peso. Era tremenda, forse le gomite, chi parla? No, era tremenda. Avevo una cucina con me, erano là e due sorelle e stava male e ci veniva la febbre tutti i giorni a 39 e lei la mandava ad onorare.